Sì, non c'è nessuna persona che ha bisogno di un gruppo di persone che non vengono a te, però non sarà il mio lavoro diversificato, non vengono a ciò che mi spiego di vincere, cioè non resta un'idea a risposta, non è giunto il mio lavoro, che non è giusto il mio lavoro, che non è giusto il mio lavoro, che non è giusto il mio lavoro. Non sento il mio lavoro, non è giusto il mio lavoro, se non mi si sa e la nostra vita, non mi ha mai mai mai...